Benvenuti a questo quinto video tutorial per quanto riguarda la compilazione del modello di presentazione della domanda per le gradatorie provinciali di istituto per le supplenze del biegno degli anni scolastici 24-25-25-26. Per inserire questo vale solo per chi fa scelta di gradatoria di scuola primaria per indicare i posti di lingua inglese cioè il titolo per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria che darà accesso quindi anche ai posti di lingua inglese. E' importante andare su questa sezione dopo la sezione dei titoli culturali fare inserisci e inserire seleziona ecco uno delle opzioni possibili per il possesso del titolo dell'insegnamento per la lingua inglese. Per esempio aver superato il concorso ordinario per titoli della scuola primaria bandito nel 2012 oppure nel 2016 o ancora nel 2020 ecco con decreto direttoriale 498. oppure avere una laurea specialistica che dà accesso alle classi di concorso in seconda fascia chiaramente a 0-24 e a 25 per la lingua appunto inglese. O ancora una vecchia laurea o una laurea di vecchio ordinamento sempre che dà accesso alle classi di concorso a 24 e a 25 dunque per l'insegnamento della lingua inglese. O ancora una laurea specialistica oppure una laurea triennale L11 ed L12 purché il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti proprio per l'insegnamento della lingua inglese. Ecco dunque selezionando uno di questi o di queste opzioni si potrà per esempio quello del concorso qui e dire la regione di partecipazione e dire l'anno in cui è stata l'anno in cui la procedura è stata bandita 2020 e fare inserisci per cui il titolo è stato inserito con successo. Oltre questo titolo si possono inserire pure i titoli di riserva i titoli di riserva sono di fondamentale importanza perché obbediscono a una legge importantissima la legge 68 del 99 per cui si è possessori di un titolo di riserva. Uno dei titoli di riserva più importanti è quello N, il titolo di invalidità civile. Come si fa a compilare per esempio questo titolo che è il più diffuso tra gli altri? Si clicca in questa opzione, si dice qual è l'ente l'INPS, è l'ente che ha rilasciato l'invalidità civile. Si dice in quale data è stata conseguita l'invalidità civile, è stata diciamo così certificata l'invalidità civile per esempio il maggio del 2023. Il numero dell'atto che è una serie di numeri che si trova nel documento di certificazione dell'invalidità. E dopo di che, attenzione perché l'invalidità civile continua a essere compilato anche l'iscrizione nei centri dell'impiego. L'iscrizione dei centri dell'impiego diventa fondamentale, bisogna dire, di essere iscritto negli elenchi dei centri dell'impiego di cui alla legge numero 68 del 1999 della provincia di e si indica la provincia di riferimento, per esempio Reggio Calabria. E anche c'è un numero di iscrizione al centro dell'impiego e si inserisce il numero di iscrizione del centro dell'impiego che si ha e si dichiara di essere iscritto oppure di non essere iscritto dipende dalla situazione in cui ci si trova di non essere iscritto poiché è occupato alla data di scadenza del bando ma di avere una data e procedura in cui è stata presentata in precedenza tale certificazione ecco potrebbe essere anche questo il inserire qui la data della procedura in cui si era diciamo iscritti o per la prima volta dunque se non si era stati mai iscritti in qualche procedura precedente lo si deve inserire qui e dunque ripeto si inserisce la procedura e il numero di iscrizione e poi si fa quindi inserisce ed è inserito il titolo di riserva valido a tutti gli effetti speriamo che questo tutorial, questo quinto tutorial sia utile ai nostri telespettatori perché il titolo di riserva è un titolo importante anzi facciamo notare anche che c'è una nuova riserva che si potrebbe inserire che vedete in fondo si ha come nuova riserva quello del servizio civile universale senza demerito quella S a cui va inserito anche proprio un certificato dove si riporta l'ente, la data, il numero dell'atto è il certificato da inserire o in formato pdf o in formato zip per in questo caso anche inserire quest'altro titolo di riserva però diciamo è sufficiente aver fatto vedere il titolo di riserva N dunque speriamo che questo video tutorial sia utile ai nostri telespettatori seguiteci nei nostri social youtube facebook nelle nostre dirette perché parleremo specificatamente di questo tema specifico con attenzione che per quanto riguarda invece l'invalidità della 104 non è al momento che in questa procedura che si andrà a dichiarare l'assistenza da 104 al parente cioè al coniuge piuttosto che al figlio o al genitore o la propria disabilità per avere la priorità ma questo verrà fatto quando si andranno a scegliere le 150 preferenze di distretti comuni e scuole e dunque sintetiche puntuali queste preferenze per l'incarico di natura annuale dunque prima verranno pubblicate le gradatore gps e poi ci sarà una seconda fase in cui si andrà anche a dichiarare la priorità per adesso si dichiara solamente la riserva al posto secondo la legge 68 del 1999 per gli invalidi civili un saluto a tutti grazie